ciao a tutti e benvenuti sul mio canale allora oggi un nuovo video è un video di nail art su tip come potete vedere lasciate perdere questi due che erano delle prove che ho voluto fare questo quello visto sul sito e passione unghie però non è che è venuto tanto beh vabbè e qui ho fatto la chiappa sogni che ho sfumato dietro vabbè comunque erano delle prove infatti avete visto che non ci ho fatto il video comunque ok e perché voi eravate arrivati qui a alza di frose ovviamente vedete se altre due tip che è n perdino allora avevo detto che ho fatto delle prove insomma così senza fare video eccetera allora a video di nail art andremo a fare il cane e la razza e la ski andiamo a fare la ski se sentite questo rumore al ventilatore così in più se sentite la voce di mio figlio perché sa giocare e migliora allora i colori che andremo utilizzare sono solo tre quindi è il pure white il bianco che è il fast f01 poison black che il fast f16 red carpet e red diva scusate che rosso fast f03 che questi rossi mi messe sbordane sempre dopo vabbè lo pulirò e come base qui andrò a mettere e no non andrò a mettere niente la lascerò così adesso metterò il gel quello lì opaco per far diventare l'unghia opaca così poi andremo a disegnare poi vedrò se nello sfondo metterò qualche colore o meno dopo vedrò all'ultimo niente va bene io vi lascerò il tutorial e ci vediamo dopo a fine video come sempre ciao Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.